I bambini protagonisti delle Olimpiadi Invernali saranno loro a disegnare le mascotte, i giochi a cinque cerchi che vedranno la Valtellino ospitare le gare. Grande la partecipazione delle scuole del primo ciclo di tutta Italia al concorso di idee promosso dal Ministero dell'Istruzione con la Fondazione Milano Cortina 2026. Sono arrivate 400 domande di adesione e 1600 proposte, 681 le classi coinvolte, 82 gli istituti, autori collettivi degli elaborati grafici. Studentesse e studenti hanno rappresentato attraverso i disegni le loro idee di mascotte che saranno fonte di ispirazione per la scelta della coppia di personaggi olimpica e paralimpica che diventerà simbolo dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e del loro valore in tutto il mondo. Gli elaborati sono stati esaminati da una speciale commissione che ha selezionato 10 coppie idonee a proseguire il percorso per arrivare alla scelta finale delle due mascotte. Ma non finisce qui perché le scuole saranno il centro anche di future iniziative, attività educative, culturali, formative e di promozione dei valori dello sport legate alle Olimpiadi. La scuola è il luogo in cui gli alunni guidati dai loro insegnanti trasformano idee e intuizioni in progettualità collettive. E' questo l'intento del concorso. Le parole del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Ho colto un entusiasmo che mi ha emozionato profondamente, spiega Giovanni Malagò, presidente del CONI e del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026. Un grandissimo coinvolgimento nel solco di un indissolubile legame tra mondo dell'educazione e mondo dello sport. Per Vincenzo Novari, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, questa sinergia tra il mondo della scuola e le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali dimostra l'importanza del gioco di squadra. Si tratta di un primo grande passo nella strada che porterà ai giochi di Milano Cortina, con il Ministero, nel solco del protocollo di intesa firmato a giugno 2021 con il Ministro Bianchi, è in corso un confronto su una serie di opportunità e attività educative da offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti nel periodo post-pandemico.